In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Laudetur Iesus Christus, sempre laudetur. Maria Sede Sapientiae, ora pro nobis. Continua la lettura dell'Imitazione di Cristo, Libro I, Capo XIV, dell'Evitare il Giudizio Temerario. Volgi gli occhi a te stesso e guardati dal giudicare i fatti altrui. Nel giudicare gli altri l'uomo fatica in vano, spesso si sbaglia e facilmente pecca. Giudicando invece e discutendo se medesimo, lavora sempre con frutto. Spesso giudichiamo d'una cosa secondo che essa ci sta a cuore, ed il nostro amore personale ci fa perdere facilmente il criterio della verità. Se il nostro desiderio tendesse sempre puramente a Dio, non saremmo così di leggeri turbati dalla resistenza del nostro privato sentire. Ma spesso qualche cosa nascostamente ci trascina dal di dentro e concorre ad attirarci dal di fuori. Molti in ciò che fanno cercano occultamente se stessi, e non se ne accorgono. Sembrano anche lieti e tranquilli quando le cose vanno secondo il loro volere ed il loro sentimento. Ma se succedono in modo diverso da quello che bramano, tosto si inquietano e diventano tristi. Se la diversità dei sentimenti e delle opinioni, assai di frequente nascono dissensioni fra amici e concittadini, fra religiosi e devoti. L'abitudine inveterata difficilmente si abbandona e nessuno si lascia volentieri trar fuori del proprio modo di vedere. Se ti appoggi più sulla tua ragione o sul tuo ingegno che sulla potenza di Gesù Cristo, la quale assoggetta a sé ogni cosa, difficilmente e tardi sarai un uomo illuminato, perché Dio vuole che ci sottomettiamo perfettamente a Lui e che con l'ardore della carità ci solleviamo al di sopra ad ogni riguardo. Capo Quindicesimo Delle opere fatte con carità Per nessuna cosa del mondo e per amore di nessuno si deve fare alcun male, ma per il bene di che ne ha bisogna si deve liberamente interrompere talora un'opera buona e cambiarla in altra migliore. L'opera buona con questo non si distrugge, ma si cambia in meglio. Senza carità l'opera esterna non giova a nulla. Qualunque cosa invece si faccia con carità, per quanto piccola e spregiata, sempre porta il suo frutto. Poiché il Dio guarda più con quale movente altri operi che non quanto Egli faccia. Fa molto colui che molto ama, fa molto colui che fa bene. Fa bene chi serve più agli altri che alla volontà propria. Spesso pare carità, ed è piuttosto carnalità, perché l'inclinazione naturale, la volontà propria, la speranza di premio, l'amore dei comodi, raramente vogliono stare lontani. Colui che ha vera e perfetta carità non cerca se medesimo in nessuna cosa, ma desidera soltanto che in ogni cosa sia fatta la gloria di Dio. Non invidia a nessuno, perché non ama aver un diletto personale. Non in sé vuol godere, ma in Dio, sopra ogni bene, desidera essere fatto beato. A nessuno attribuisce alcunché di bene, ma ogni cosa riferisce a Dio, da cui ogni cosa, come da prima sorgente, procede, ed in cui, come ultimo fine, tutti i santi con gioia riposano. O chi avesse una scintilla di carità vera, certamente sentirebbe essere pieni di vanità tutte le cose terrene. Laudetur Iesus Christus, Semper laudetur, In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amene.